una notte in paradiso c'erano una volta due grandi amici che dal bene che si volevano avevano fatto questo giuramento chi si sposa per primo dovrà chiamare l'amico per compare d'anello anche se si trovasse in capo al mondo dopo un po uno dei due amici muore l'altro dovendosi sposare non sapeva come fare e chiese consiglio al professore brutto affare disse il pievano tu la tua parola devi mantenerla invitano anche se è morto va alla tomba e digli quello che gli devi dire sta poi a lui venire o no il giovane andò alla tomba e disse amico è venuto il momento vieni a farmi da compare d'anello saperse la terra e salto fuori l'amico sì che vengo devo pur mantenere la promessa perché se non la mantengo mi tocca stare chissà quanto tempo in purgatorio vanno a casa e dopo in chiesa per lo sposalizio ci fu un banchetto di nozze e il giovane morto cominciò a raccontare storie ad ogni genere ma di quel che aveva visto all'altro mondo non ne faceva parola lo sposo non vedeva l'ora di fargli delle domande ma non ne aveva il coraggio alla fine del banchetto il morto salza e dice amico visto che t'ho fatto questo piacere dovresti venire ad accompagnarmi un pezzetto certo perché no però senti solo un momentino perché sai è la prima notte con la mia sposa ma sì come vuoi lo sposo diede un bacio alla sposa vado fuori un momento e torno subito e uscì col morto chiacchierando del più e del meno arrivarono alla tomba s'abbracciarono il vivo pensò se non glielo domando ora non glielo domando mai più si fece coraggio e gli disse senti vorrei chiederti una cosa a te che sei morto di là come si sta io non posso dire nulla fece il morto se vuoi sapere viene anche tu in paradiso la tomba s'aperse e il vivo seguì il morto e si trovarono ad essere in paradiso il morto lo condusse a vedere un bel pezzo di cristallo con le porte d'oro e dentro gli angeli che suonavano e facevano ballare i beati e san pietro che suonava il contrabbasso il vivo stava a bocca aperta e chissà quanto sarebbe rimasto lì se non avesse avuto da vedere tutto il resto veni in un altro posto adesso gli disse il morto e lo portò in un giardino i cui alberi invece di foglie avevano uccelli di tutti i colori che cantavano andiamo avanti cosa fai lì incantato e lo portò in un prato in cui ballavano gli angeli allegri e dolci come innamorati ora ti porto a vedere una stella sulle stelle non si sarebbe mai stancato di guardare i fiumi invece che d'acqua erano di vino e la terra era di formaggio tutto un tratto si riscosse di compare sarà già qualche ora che sono quassù bisogna che torni dalla sposa che sarà in pensiero sei già stufo stufo sì stesse a me e ce ne sarebbe ancora da vedere eh lo credo ma è meglio che vada bene come vuoi e il morto lo riaccompagnò fino alla tomba e poi sparì il vivo uscì dalla tomba e non riconosceva più il cimitero era tutto pieno di monumenti statue alberi alti esce dal cimitero e invece di quelle casette di sassi tirate su alla meglio vede dei grandi palazzi e tramvai automobili aeroplani dove diavolo sono ho sbagliato strada ma com'è vestita questa gente domanda un vecchietto che è un tuomo questo paese è sì si chiama così questa città bene ma non so perché non mi ritrovo sapete dirmi dov'è la casa di quello che si è sposato ieri ieri ma io faccio il sagrestano e posso dire che ieri non s'è sposato nessuno come io mi sono sposato e gli raccontò che aveva accompagnato in paradiso il suo compare morto i sogni disse il vecchio questa è una vecchia storia che raccontano dello sposo che ha seguito il compare nella tomba e non è più tornato e la sposa è morta di dolore ma no lo sposo sono io senti l'unica è che tu venga a parlare qui col nostro vescovo vescovo ma qui in paese c'è solo il pievano che pievano sono tanti di quegli anni che qui ci sta il vescovo e lo portò dal vescovo il vescovo quando il giovane gli raccontò cosa gli era successo si ricordò di una storia sentita da ragazzo prese i libri cominciò a sfogliarli trent'anni fa no cinquanta no e cento no duecento no e continua a scartabellare alla fine su una carta tutta rotta e disunta trova proprio quei nomi è stato trecent'anni fa quel giovane è scomparso nel cimitero e la sua sposa è morta di dolore lezzi qui se non ci credi ma sono io e se è stato all'altro mondo raccontami raccontami qualcosa ma il giovane diventò giallo come la morte e cadde in terra così morì senza poter raccontare nulla di quel che aveva visto gesù e san pietro in friuli come fu che san pietro è andato col signore c'era una volta un povero uomo che si chiamava pietro e faceva il pescatore una sera tornò a casa stanco senza aver preso neanche un pesce e la moglie non gli aveva preparato la cena sono andata in giro tutto il giorno ma non ho trovato niente gli disse e soldi non ne abbiamo e come faccio ad andare a letto senza cena presto trovami qualcosa da mangiare qui non c'è niente pietro se proprio vuoi andiamo in quel campo dove ci sono dei bei torsi di verze e prendiamoceli ma io non voglio fare il ladro allora digiuniamo verze dici ma se ci prendono tutte e due insieme ecco per non darne l'occhio andiamoci uno da una parte e uno dall'altra pietro si decise e si avviarono a quel campo lui da una strada e sua moglie da un'altra per la sua strada pietro incontrò un uomo biondo con gli occhi grigi che stava seduto su un paracarro chissà cosa fa qui quel forestiero si domandò a pietro e gli chiese galantuomo che facciamo di bello sono qui per insegnare ai bambini a non far del male disse il forestiero pare dica proprio a me pensò pietro e se han fatto del male per farvi fare penitenza aggiunse il forestiero a pietro quel discorso non gli piaceva tagliò corto e continuò la sua strada ma le parole del forestiero continuavano a ronzargli in testa arrivato al campo vide un'ombra di donna che si muoveva la padrona la padrona scappiamo e pietro fuggì di corsa buttandosi attraverso filari fossi e siepi corse a casa sempre pensando a quelle parole fargli far penitenza e appena arrivato pigliò il malico della scopa e giù bastonate sulla schiena di sua moglie ah ladro volevi che diventassi ah cagna ah canaglia pietà pietro perdonami gridava la donna non ho potuto prender nulla è venuto il padrone e ho dovuto scappar via e a me m'ha fatto scappar via la padrona cagna canaglia farmi diventare un ladro ma io non voglio star più con te voglio andare a far penitenza anch'io e corse via sulla strada finché non trovò quel forestiero e gli raccontò tutto sì pietro hai fatto bene a venire da me disse il forestiero adesso sappi che tu non hai visto la padrona e che tua moglie non ha visto il padrone ma eravate solo voi due che vi siete spaventati a vicenda e la vostra coscienza sporca non va fatto riconoscere vieni con me sarà il mio primo amico e il mio brazzo destro io sono il signore la coratella di lepre una volta il signore san pietro passarono per un campo quando tra un filare l'altro schizza fuori una lepre e intoppò nei piedi del signore presto pietro apri il sacco e metti la dentro pietro la mise nel sacco e disse è tanto che non ne mangiamo signore questa ce la facciamo arrosto bene pietro stasera ci faremo una buona cena tu che sei bravo a fare il cuoco cucinerai la lepre arrivarono a un paese viderò la frasca su una porta ed entrarono buonasera signoroste buonasera galantuomini ci porti mezza boccia di vino disse il signore e tu pietro intanto va a far cuocere la lepre san pietro esperto com'è piglia un coltellaccio lo arrota con la roncola che portava con sé spella la lepre la squarta e poi la butta in un tegame mentre cuoceva gli venne l'acquolina in bocca che grassa che è e che buon odore aspetta a me ora assaggio un po se è buona oh buona ecco che la coratella si è già cotta non potrei mangiarmela io con questa crosta di pane figuriamoci se il signore se ne accorse detto fatto tira fuori la coratella con la forchetta e se la mangia poi chiama signore la lepre è cotta la metto in tavola già cotta portala portala pietro regendo il tegame con una mano e con l'altra nettandosi dal grasso i baffi torna dal signore serve metà lepre nel piatto del signore e metà nel suo e si mettono a mangiare ma il signore si mette a cercare nel piatto di pietro e la coratella dov'è ma signore non lo so non ci ho badato forse era una lepre senza coratella non c'è neanche nel mio piatto eh deve essere così dice il signore sorride e riprende a mangiare ma pietro non può mandar giù neanche un boccone su pietro cos'hai che sei così biascicone hai forse la coratella nello stomaco io signore eh non do mica la colpa a te manza manza non posso signore ho come un groppo qui adesso bevo un bicchiere di vino la notte pietro non poteva chiudere occhio all'alba s'era appena addormentato quando il signore lo svegliò perché dovevano mettersi in strada per arrivare in città prima di mezzogiorno e pietro s'alzò sempre col pensiero di quella coratella e del signore che forse sapeva tutto in città non vedevano che facce serie occhi bassi nessun avviso di balli o di feste come c'è sempre nelle città cosa succede qui si domanda san pietro e il signore gli dice pietro domanda un po a qualcuno pietro domanda a un soldato e quello sottovoce gli dice che la figlia del re è tanto malata che i medici l'hanno data per spacciata e il re ha promesso un sacco di napoleoni a chi la guarirà il signore disse a pietro senti pietro voglio farti guadagnare quel sacco di napoleoni vai al palazzo e di che sei un gran dottore quando sarai solo nella camera della figlia del re prendi la tua roncola e tagliale la testa metti la testa in fresco e dopo un'ora tirala fuori riattaccala al busto e la figlia del re sarà guarita pietro fila dritto dal re e chiede ad essere lasciato un'ora da solo nella camera della figlia appena è solo con lei tira fuori la roncola e giù un colpo la testa si stacca tutto il letto si riempie di sangue pietro butta la testa in un secchio d'acqua e si siede ad aspettare che passi un'ora passata l'ora tum tum bussano alla porta aspettate un momento fa pietro tira fuori la testa la rimette sul busto ma niente non si attacca pietro comincia ad aver paura di fuori bussano tum tum apri dottore è la voce del re come faccio dice pietro come faccio pomf buttano giù la porta entra il re e vede tutto il sangue chi hai fatto canaglia hai assassinato mia figlia questa la pagherai sulla forca guardie legatelo e portatelo alla forca maestà perdono misericordia via marsch non può salvarmi che il signore pansa pietro trascinato per la città tra i soldati e proprio in quel momento tra la folla vede il signore salvami salvami signore dove portate quest'uomo fa il signore ai soldati alla forca cosa ha fatto cosa ha fatto cosa ha fatto chiedete ha ammazzato la figlia del re non è vero lasciatelo anzi riportatelo dal re perché prenda il sacco di napoleoni la figlia del re è sana come un pesce i soldati tornano indietro per vedere se è vero e arrivati davanti al palazzo reale vedono la principessa sul balcone tutta allegra e il re che viene incontro a pietro gli dà il sacco di napoleoni pietro vecchio com'è in quel momento si sente tanto in forze che solleva il sacco come una piuma e se lo mette sulla schiena e va al crocicchio dove l'aspetta il signore hai visto pietro beh signore poi direte che non sono buono a nulla dammi quei soldi che li dividiamo come al solito pietro posa il sacco e il signore si mette a fare i mucchi cinque a me cinque a te cinque all'altro e così continua cinque a me cinque a te cinque all'altro pietro lo sta un po' a guardare poi gli chiede ma signore noi siamo in due perché fate tre mucchi eh pietro e il signore continua questo a me questo a te questo all'altro e chi è l'altro è quello che ha mangiato la colatella signore signore dice svelto pietro sono stato io a mangiarla ecco che t'ho preso al laccio hai fatto male pietro e la paura che t'ho fatto prendere è stata il tuo castigo ti perdono ma non farlo più e pietro promise l'ospitalità una sera gesù e san pietro dopo aver molto camminato per le strade della montagna capitarono in una casa di una donna e domandarono asilo per quella notte la donna li squadrò dalla testa ai piedi e disse coi vagabondi non voglio averci a che fare per l'amor di dio padrona ma la donna gli sbatté la porta in faccia pietro permaloso come al solito lanciò un'occhiata al signore come a dirgli che sapeva lui cosa meritava quella donna ma il signore senza badargli tirò avanti ed entrò in un'altra casa più povera nera di fuligene dove una donnetta stava filando accanto al fuoco padrone ci fate la carità di darci alloggio per stanotte abbiamo fatto tanta strada e non riusciamo più a tirarci dietro le gambe ma sia come dio vuole fermatevi pure garantuomini e dove volete andare ormai che fa più scuro che nella bocca di un lupo farò quel che posso intanto venite qua sedetevi al fuoco scommetto che avrete fame anche eh l'avete detta giusta disse pietro la donnetta che si chiamava donna catin buttò quattro sterpi sul fuoco e si mise a preparare la cena brodo e fagioli teneri teneri che pietro a mangiarli andava in gloria e un po di mele che teneva appese alle travi del soffitto poi li portò a dormire sul fieno benedetta donna disse pietro stendendosi beato indomani di buonora nel licenziarsi da donna catin il signore disse padrona quel che comincerete a fare stamattina possiate continuare a farlo tutto il giorno e se ne andarono la donnetta si mette subito a tessere e tesse 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 per tutta la giornata la spola andava e veniva nell'ordito e la casa si riempiva di tela di tela di tela che usciva dalla porta dalle finestre arrivava fin sotto le tegole la sera venne comare giacoma a trovare donna catin comare giacoma era quella che aveva sbattuto la porta in faccia a gesù e a san pietro vede tutta quella tela e non da pace a donna catin finché non le ha raccontato tutto quando seppe che i due forestieri che lei aveva cacciato via avevano fatto quel regalo alla vicina si morse le dita dalla rabbia e chiese ma sapete se avevano intenzione di ripassare di qui quei forestieri credo di sì hanno detto che andavano solo fino alla valle allora se tornano mandatemeli a casa mia vi prego che forse faranno una grazia anche a me volentieri comare e domani sera quando i due pellegrini si ripresentarono alla sua porta onna catin fece a dire il vero stasera sono un po' imbrogliata a darvi alloggio ma andate pure dalla mia comare giacoma in quella casa là sotto che si farà in quattro per contentarvi pietro che aveva buona memoria storse un po' il naso e voleva dire di comare giacoma tutto quel che pensava ma il signore gli fece cenno di tacere e andarono a quella casa la donna venne incontro con tanti complimenti oh buonasera i signori hanno fatto buon viaggio entrino entrino siamo povera gente ma di buon cuore si vogliono scaldare al fuoco adesso preparo la cena così tra tanti complimenti il signore san pietro mangiarono e dormirono in casa di comare giacoma e al mattino si disposero per uscire con la donna che continuava a fare auguri e riverenze padrona disse il signore che quel che cominciate a fare stamattina possiate continuare a farlo tutto il giorno e se ne andarono ora vi faccio vedere io si disse la comare rimboccandosi le maniche voglio tessere il doppio di tela di donna catin ma prima di mettersi al telaio per non dover più interrompere dopo pensò ad andare svelta svelta in concimaia a fare i suoi bisogni va concima ma per quanto pensasse di far svelta non riusciva più a finire oh bella cosa mi succede come mai non finisco più cosa m'avrà fatto male al diavolo ma qui non sarà che dopo mezz'ora provò a togliersi di lì e rimettersi al telaio ma sì dovette tornare in concimaia di gran corsa e così ci passò tutta la giornata altro che tela fu un miracolo se non traboccò il tagliamento il grano saraceno al calar del sole tra i viandanti accaldati sudati impolverati entrarono in un villaggio nei cortili stavano finendo di battere il grano e per l'aria ancora volava la pula oh di casa dissero i tre a una donna che stava spulando questa donna che era una vedova li fece entrare e diede loro da mangiare e da dormire nel fienile a fatto che l'indomani l'aiutassero a battere quei viandanti che erano il signore san giovanni e san pietro andarono a dormire nel fienile allo spuntare del giorno pietro sentì cantare il gallo e disse su spicciamoci ad alzarci perché abbiamo mangiato ed è giusto che si lavori dormi e taci rispose il signore e san pietro si voltò dall'altra parte s'erano appena riaddormentati quando capitò la vedova con un bastone in mano e beh credete di starvene a poltrire fino al giorno del giudizio voi altri dopo aver mangiato e bevuto alle mie spalle lasciò andare una legnata sulla schiena di san pietro e se ne andò di furia avete visto se avevo ragione disse pietro fregandosi le spalle su su andiamo a lavorare se no quest'accidenti di donna si concima per le feste e il signore di nuovo dormi e taci dite bene voi ma se torna se la prende con me se hai tanta paura di una donna disse il signore passa qua e lascia che al tuo posto vada giovanni cambiarono di posto e poi si riaddormentarono tutti e tre la vedova tornò tutta invelenita col bastone come ancora a dormire siete e per non fare ingiustizia stavolta diede una bastonata a quello in mezzo che era di nuovo san pietro sempre a me gemeva pietro e il signore per farlo star tranquillo scambiò di posto con lui così sei più riparato dormi e taci tornò la vedova e adesso tocca a te e giù un altra regnata a pietro che stavolta saltò fuori dal fieno il signore dica pure quel che vuole ma io qua non ci resto e corse in cortile a prendere la trebbia e a mettersi al lavoro più lontano che poteva da quel diavolo di donna un momento dopo giunsero anche il signore e san giovanni presero le trebbie anche loro ma il signore disse portami un tizzone acceso e fatto segno agli altri che stessero quieti diede fuoco ai quattro angoli dell'aia in un attimo ci fu una gran fiammata che avvolse i covoni quando si spense si credeva di veder solo cenere invece c'era tutto lo strame a destra tutta la paglia manca la pula in aria e il grano in mezzo tutto fuori dalle spighe bello e pulito come fosse già spulato e abburattato la battitura era fatta senza neanche dare un colpo di trebbia i tre non aspettarono nemmeno d'esser ringraziati escono dal cortile e se ne vanno ma la vedova invece di pentirsi della sua prepotenza e di contentarsi di quella bella trebbiatura senza fatica fa subito sgombrare l'aia fa misurare e portare via il frumento e fa portare sull'aia un altro carico di covoni appena gli uomini ebbero slegato i covoni la vedova prese anche lei un tizzone e diede fuoco all'aia ma stavolta le fiamme bruciarono davvero e il grano ardeva scoppiettando come frittello in padella la vedova con le mani nei capelli corse fuori del villaggio per raggiungere i tre viandanti appena li vide si buttò in ginocchio e raccontò la sua disgrazia il signore visto che era pentita davvero disse a pietro va salva quel che puoi e insegnale che si deve render bene per male san pietro arrivò sul battuto e fece il segno della croce la fiamma si spense il grano mezzo abbrustolito si radunò tutto in un grumo nero com'era sformato scoppiato non sembrava più frumento ma per la benedizione di san pietro era ancora pieno di farina e quei granelli scuri piccini puntuti furono il primo grano saraceno che si vide sulla terra grazie 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 grazie